Un appuntamento particolare, un incontro particolare è quello che vi proponiamo oggi, l'incontro con un uomo di chiesa, un vescovo che viene da lontano ma che è amico di Telepace, non solo di Telepace, una persona molto conosciuta e davvero col cuore grande. Sto parlando di Monsignor Virgil Bercea, vescovo greco-cattolico che viene da Oradea in Romania. Allora intanto grazie per essere qui con noi e per raccontarci un po' quella che è la chiesa che per noi è lontana ma nello stesso tempo è una chiesa sorella. Vescovo greco-cattolico, intanto andiamo subito a spiegare così non facciamo confusioni. Che cosa vuol dire? Lei è vescovo di una comunità cristiana, ci spieghi. Buongiorno, sia laudato Gesù Cristo, contento di essere ritornato qua fra di voi e contento di essere qua per questo evento, 45 anni di Telepace. Allora, sono dalla Romagna, è vero? Sono vescovo greco-cattolico, cattolico di rito bizantino. La fede è una, la maniera di espressione è diversa, leggermente. Ma nella chiesa cattolica abbiamo, accanto alla chiesa cattolica latina, romana, ambrosiana, mezzarabica, mozzarabica, i riti orientali, i quali sono 21, 22. Sicché lì sta la bellezza della chiesa cattolica nella diversità, in questa grande diversità, di popoli, di lingue, di nazioni, di culture. Con un unico però centro, con un unico cuore. Un unico cuore, prima di tutto il Signore e poi dopo il Santo Padre. Ok. Grazie intanto per avercelo riraccontato, perché suppongo che non è una domanda che le pongono raramente. Allora, dalla lontana o vicina a Romania, perché oramai le distanze non sono più così impensabili e impensate, ma una chiesa che noi conosciamo poco e vogliamo conoscere di più. Quindi ci racconti. Va bene, questa chiesa nostra greco-cattolica, allora se volete un racconto dobbiamo partire un po' dall'inizio, dalle radici. Il popolo romeno è nato cristiano e con la sua lingua e con un cuore. Sulla vecchia daccia, che era conquistata dall'imperatore Traiano, loro hanno portato la fede cristiana, i legionari. Allora, mescolandosi, è nato questo popolo, che si chiama popolo romeno, e è nata una lingua nuova, una lingua neolatina, che si chiama la lingua rumena. Ed essendo cristiani, a quel tempo erano tutti cristiani una. Fino al 1054 era identico per tutti. la grande scisma, il grande scisma del 1054, quando si divide la chiesa d'Oriente e la chiesa d'Occidente, chiesa bizantina e chiesa latina. Poi dopo i papi, lungo i tempi, sempre hanno cercato di rifare l'unità. Così si è fatto in diversi... il concilio di Firenze Ferrara. Dopo il concilio sono state diverse unioni. Al concilio, il nostro allora mitropolita di Moldavia, ha firmato il ritorno alla chiesa. Poi dopo, una parte del popolo romeno, che era nell'impero austriaco nel 1700, ha fatto questa unione. Prima l'hanno fatto gli ucraini, dopo l'hanno fatto noi. E così nasce una nuova chiesa. La chiesa si chiamava la chiesa cattolica, diritto bizantino, unita a Roma, perché sono rimasti anche gli ortodossi, che a quell'ora si chiamavano scismatici, ora non più, siamo fratelli, con il concilio Vaticano II, fratelli tutti, tra l'altro, con l'insegnamento di Papa Francesco. E allora questa chiesa va avanti. Dopo 1700 inizia a lavorare molto proprio nel popolo romeno. Si aprono le prime scuole. Un po' tardi in Romania, 1754, quando pensiamo che qua da voi era l'università a Bologna, da quanti anni? Quasi 500 anni prima, 700, 800, appunto. E allora dopo questo risveglio della coscienza cristiana, nazionale, ma nel senso buono, allora si è arrivata alla coscienza che il popolo romeno ha un suo percorso. Con 1848, sappiamo cosa è stato tutto, lì era l'illuminismo romeno, era molto portato avanti, pensate dai sacerdoti, ma non contro la chiesa, e con la chiesa, molto interessante questo è fatto. E allora si risveglia il popolo, si arriva con la Grande Guerra Mondiale, la Prima Guerra Mondiale, la Grande Guerra, e si arriva all'unità dei popoli, nascono i nuovi popoli, le nuove nazioni, era fiorente questa chiesa, aveva, ripeto, scuole, si occupava della gente, dei poveri, di tutto quanto, arriva la Seconda Guerra Mondiale, e poi dopo arrivano i comunisti. Arriva il regime. Il regime. E con il regime, per il fatto che volevano controllare tutto nell'est Europa, la nostra chiesa, ad un ordine di Stalin, fu messa fuori legge. E allora in una notte sono stati arrestati tutti i nostri vescovi, dodici, sette di dolo sono morti nelle carceri, tra l'altro Santo Padre Francesco li ha beatificati nel 2019, tanti sacerdoti, tanti fedeli, tanta sofferenza, con dal 1948 fino al 1964, la stragrande maggioranza è stata nelle carceri, oppure clandestina, eppure, delle sofferenze incredibili, e quasi inspiegabili. nel 1964, alle pressioni dell'Occidente, Ceaușescu li ha fatto uscire fuori dalle carceri, ma comunque erano tutti con domicilio coato, la chiesa non era riconosciuta, se qualcuno voleva studiare e non c'era seminario, non c'era niente, fino al 1989, quando di nuovo abbiamo conquistato le libertà. Io vi dico questo, è che io sono nato nel 57. E quindi lei ha vissuto perfettamente questo periodo. ho avuto nella famiglia un sacerdote che dopo è diventato vescovo, cardinale, poi dopo cardinale, Monsignor Alexandro Todia, una figura molto nota con Giovanni Paolo II, ma io mi ricordo quando ero piccolo che non capivo perché noi non andavamo alla chiesa, nel villaggio, e pregavamo a casa. E sapevo che abbiamo un sacerdote, un parente molto vicino nelle carceri e quando si parlava di lui non si sapeva se è vivo o morto, sempre si piangeva. E l'ho visto prima volta quando lui è ritornato dalle carceri, una persona più alta di me con capelli rasati perché era uscito dalle carceri e con due occhi grandi, magro, 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 soltanto quasi pelle e ossa che mi hanno impressionato quegli occhi. Io avevo visto una foto da prima quando lui studiava a Roma e questi occhi mi sono rimasti per sempre nella vita, tuttora li vedo. E allora così per questo io vi dico ho studiato con i nostri professori che sono ritornati dalle carceri. Io ero all'università e clandestinamente ho studiato anche la teologia e clandestinamente sono stato ordinato sacerdote nel 82 e ero clandestino anche nella famiglia. La mia mamma e il mio papà hanno saputo dopo la caduta del regime perché avevo una paura era quanto hanno sofferto per non creare altri problemi. Comunque arriva la libertà nell'89 e si cerca di ridare la vita. era Monsignor Alexandro Todia il vescovo allora il papa ha nominato altri vescovi era un entusiasmo fantastico soltanto che i nostri fratelli ortodossi che avevano presso tutte le nostre chiese non ci hanno restituito era una sofferenza enorme e così poco alla volta si è cercato di ricostruire abbiamo i nostri vescovi hanno riaperto alcune scuole hanno riaperto alcuni seminari hanno iniziato a ricostruire delle chiese per radunare la gente hanno iniziato di fare la carità con la caritas con altre maniere e poco alla volta sono già passati ormai 32 anni e sì tuttora ci sono ancora delle sofferenze ma li viviamo in un'altra maniera li vivete con la speranza e la gioia di essere liberi liberi appunto questo è molto importante questo fatto io ho fatto un riassunto un riassunto che ha comunque dato l'idea delle fatiche delle sofferenze che questa chiesa ha portato avanti nei secoli e in modo particolare nel periodo della chiusura del comunismo e tutte le sofferenze che molte persone a partire dalla sua famiglia e per andare più in là sicuramente hanno vissuto una chiesa che ha bisogno di aiuto e quindi attraverso Telepace rilanciamo che cosa possiamo fare noi fratelli italiani per la chiesa della Romania io ho detto sempre prima di tutto la preghiera e l'ho detto anche quando altre volte sapete spesse volte preghiamo e non sappiamo cosa e dove va finire la nostra preghiera e io spesse volte ho ringraziato quando ho celebrato in diverse parti che avevate la libertà ho avuto la libertà e ho detto grazie perché avete pregato per noi e ho detto qualcuno risponderà mai abbiamo pregato per la Romania nemmeno sapevamo che esiste tantomeno la chiesa greco-cattolica e ho detto sì è vero ma tutte le volte quando non avete saputo dove va a finire la vostra preghiera il Signore l'ha portato nelle carceri della Romania dove soffrivano i nostri sacerdoti laici vescovi e le hanno fatto forti questo è fondamentale è fondamentale la preghiera quindi la prima cosa la preghiera la preghiera poi dopo già ci avete aiutato tanto sì è importantissimo per me i rapporti i rapporti umani le conoscenze quando si viene si vede si rende conto quali sono le necessità qual è la situazione cosa si dovrebbe fare che passi da seguire perché se diciamo guarda dobbiamo fare questa sì è semplice diciamo abbiamo un piano di fare una cosa ma quando si viene si vede si conosce la gente si rende conto sì questo è bisogno questo vale la pena di andare avanti di costruire di in questi anni io che l'ho seguita da lontano ho visto che lei ha creato davvero questa relazione l'ha creata con Telepace quindi con tutta la famiglia di Telepace con la chiesa di Verona ma con tante altre chiese in Italia è vero e non soltanto l'obiettivo è proprio questo creare relazione per conoscerci di più per fare alla fine una famiglia comune questo è fondamentale sapete è fondamentale da una parte per e prima di tutto per noi che noi siamo comunque una minoranza la chiesa cattolica sappiamo che tuttora in mondo si è come numeri ma vediamo qual è il rapporto come la società vuole metterla un po' accanto ma è molto importante sentirsi uniti e questa unità si sente proprio quando ci sono questi rapporti queste relazioni questi incontri vedete il Santo Padre cosa fa non soltanto nella come va oltre e quanto è fondamentale questo conoscersi e quando si conosce si ama l'altro si prega per l'altro si aiuta l'altro ed è prima di tutto e conoscersi amare aiutare quindi in terza battuta aiutare in questo periodo visto che lei cita il Santo Padre siamo un po' tutti colpiti dalla situazione del conflitto in Ucraina tra Ucraina e Russia e tutti in Europa si sono dati da fare per i profughi una delle realtà che per prima ma anche per la vicinanza eccetera siete stati voi la Romania e lei di recente è stato a visitare tra l'altro un campo profughi lì ai confini con l'Ungheria tra l'altro dove voi avete accolto sì sì è vero è una cosa che non si comprende nel 2022 una guerra qua è incomprensibile non abbiamo imparato niente dal passato forse niente proprio e vediamo come nascono un Hitler un Stalin un Nero Nerone e quanti nella storia è un Putin ci sono delle cose veramente da non credere e allora lo stesso non abbiamo io ma noi noi tutti non ci siamo non sapevamo che il popolo romeno è talmente aperto ad accogliere l'altro è l'altro che soffre quando è iniziato tutto e questi poveri hanno cominciato a scappare via ucraini abbiamo visto che tutte le frontiere si sono aperte tutti i romeni erano lì pronti per offrire tutto bello anche la chiesa ortodossa greo cattolica latini tutti ci siamo dati da fare è vero che queste cose ti toccano in una maniera fantastica perché siamo talmente vicini che non sappiamo cosa succede cosa succede e qual è cosa sarà domani sul confine proprio con Ucraina noi abbiamo una casa di suore proprio la nostra suore della congregazione di Madre di Dio e quelle si sono aperte hanno una casa abbastanza grande e con il comune di Siget hanno aperto la loro casa e sono passati tanti erano a un certo momento non riuscivano più e allora sono andati i nostri seminaristi da Blas da Cluj da Oradia e hanno fatto dei turni settimane per aiutare le suore e così poco alla volta si sono risolti i problemi a Oradia noi siamo un po' più lontani più in giù comunque sono passati e proprio per la nostra diocesi proprio che abbiamo noi avuto contatto erano più di 300 che sono venuti li abbiamo gestionato abbastanza bene dall'altra parte io avendo avuto un contatto molto stretto con l'ospedale Burlo di Trieste dei bambini sono riuscito a creare alcuni contatti e sono stati portati con per tramite di Barbara Faris intorno a 92 bambini dall'Ucraina fate arrivare e con l'intermediazione di sacerdoti di Don Orione che lavorano al VIV interessante molto interessante come lavora il Signore poi dopo alcune famiglie si sono fermate per un tempo comunque una è ferma lì da noi sono otto persone gli abbiamo offerto un appartamento e tutto quello che serve da una parte dall'altra parte tutte le congregazioni che le abbiamo lì a Orade tutti hanno fatto ma la Caritas perché ci vuole ci sono più rimasti allora si fa una scuola per i bambini e abbiamo assunto delle insegnanti che sono ucraine e insegnanti rumene che parlano ucraino o russo e fanno la traduzione e comunque si fa la scuola in maniera tale da aiutare un'integrazione maggiore bellissima questa cosa sinceramente dovremmo impararla anche noi prima un'altra famiglia che era avviata da noi aveva sei fili e noi come abbiamo una scuola tutti sono venuti alla nostra scuola da vedere come li hanno colto gli altri ragazzi avendo saputo ciò che succede erano talmente impressionati e disponibili poi dopo sono rimasti per che ne so tre, quattro cinque mesi poi sono partiti per Irlanda sono in Irlanda poi dopo sono partiti anche in Canada quindi la bellezza anche della carità in un momento veramente difficile fa nascere delle delle unioni sì sì amicizie lo stesso un'ultima caratteristica che mi piacerebbe sottolineare di quello che lei fa nella nella sua diocesi nella sua terra a Oradea è il fatto di far incontrare la comunità greco-cattolica con la comunità ortodossa non è semplice eppure lo riuscite a fare sì allora io ormai sono a Oradea da più di venticinque anni e sapete che c'è la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani adesso a gennaio a gennaio sì 15-18 gennaio e quando sono arrivato a non si faceva niente i rapporti erano abbastanza tesi allora ho iniziato prima subito primo anno nel 97 ho iniziato abbiamo fatto cattolici latini che sono di lingua ungherese e con noi e poi con tenacità anno per anno e poco alla volta sono venuti i luterani i reformati unitariani i baptisti e pentecostali adventisti ebrei messianici e poi alla fine sono arrivati anche gli ortogosi qualche anno fa ma grazie a Dio ma non è bello questo sai i rapporti tra la gente non si può stare sempre teso è impossibile da vivere questo dobbiamo essere sereni semplici sì tutto quanto niente altro e non credere che fai non so che cose grandi ma fai quello che le cose quotidiane appunto e allora pensate poco alla volta inizialmente ero sempre io ma poco alla volta ho cercato di dare e adesso è una signora che lavora lì nell'ufficio pastorale che lì da 5-6 anni le guida ma ciò che è importante è che tutti ascoltano questa signora già per l'anno prossimo per 2023 la signora mi ha annunciato che ha fatto già l'incontro mi ha trasmesso tutto ciò che hanno discusso pensate che l'incontro preparatorio organizzato dai greci e cattolici si è fatto nel liceo ortodosso e questo è eh sì e quindi torniamo al discorso iniziale quando lei ci ha raccontato un po' la sua storia la storia del suo popolo e la storia della chiesa greco-cattolica che alla fine l'importante è creare relazioni giusto? è vero lei si trova qui lo abbiamo detto all'inizio per un anniversario importante per Radio Pace e Tele Pace 45 anni di vita lei ha incontrato questa esperienza questa chiesa questa 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 televisione che racconta la voce della chiesa del Papa e delle chiese particolari come è nato questo incontro con Tele Pace? ma questo incontro con Tele Pace è nato per tramite di un allora seminarista Giorgio Vologan che ha incontrato Don Guido Todeschini e mi ha parlato e poco la volta si è creata una amicizia una 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 posso dire anche ci vogliamo bene proprio ci vogliamo bene vedete questo Giorgio Vologan è arrivato prima console della Romania lui ha studiato teologia e ha fatto anche comunicazioni sociali a L'Umsa poi dopo è diventato console a Milano è diventato ambasciatore della Romania presso il Quirinale a Roma e adesso è ambasciatore della Romania in Spagna e Don Guido è rimasto qua con Don Guido e con Tele Pace con tutti voi adesso con Don Claudio abbiamo ma allora era Don Guido abbiamo fatto la chiesa vi ricordate la chiesa in Oradia dopo la visita del Santo Padre Giovanni Paolo II in Romania che bello che avventura fantastico quando abbiamo penso prima pietra venuti lì poi dopo quando erano le fondamentali dopo quando abbiamo fatto la consacrazione la visita del Papa in Romania vi ricordate eravate lì anche voi e quindi è una storia di lunga data un'amicizia di lunga data ma che permane dopo io sono ritornato più volte qua da voi abbiamo celebrato e tuttora sono molto contento veramente contento vedi nel frattempo anche a me mi sono successe diverse cose sapete che comunque lì in Romania abbiamo delle cose belle ma ci sono anche delle cose brutte mi hanno fatto un processo penale nel 2014 accusandomi di tante cose sono andato al Papa ho detto che do le dimissioni mi ho guardato e ho detto ma hai qualcosa sulla coscienza? ho detto no vai avanti dopo 62 volte in tribunale mi hanno assolto a Oradia e a Bucharest prima parlavano tutte le televisioni di ciò poi dopo quando mi hanno assolto ne sono andato niente dopo hanno bruciato hanno bruciato l'episcopio nel 2018 una cosa terribile poi sono caduto malato ma è venuto in Italia sì a trattarmi grazie grazie qua sono vivo mi hanno salvato i medici da Udina adesso il palazzo l'esteriore hai rifatto tutto quanto il processo non c'è più io ringrazio il Signore perché ho fatto sempre tutto alla luce del giorno questo è importante è fondamentale e allora possono crearti qualsiasi cosa e adesso so chi ho perdonato tutti e tutto e non ho nessun rancore nel cuore e cerco di andare avanti perché tutte queste cose le hanno creato per me contro la Chiesa nostra dico ripeto ho perdonato tutto non ho niente ciò che sono contento è quello che la Chiesa va avanti abbiamo 214 sacerdoti che funzionano abbiamo due scuole con più di 1800 all'unico queste due scuole abbiamo il seminario che funziona abbiamo la gente che ci sta accanto sono passate tante cose anche tra noi la pandemia adesso questa paura della guerra ma siamo con il Signore e se siamo con Lui chi potrà essere contro di noi grazie mille per tutta questa chiacchierata per averci raccontato è una bella testimonianza veramente quella che lei ci dà e anche la strada che ci indica la strada della relazione del volerci bene nonostante i chilometri di distanza grazie anche a tutti voi per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento con i programmi di Telepace grazie a tutti a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.